Michela agli occhi buonasera buonasera allora tu hai un centro estetico all'interno del quale poi tra l'altro tra le varie cose che fai esegui anche il trucco permanente vero? si siamo specializzati in trucco permanente ed anche le station ciglia e sono due settori che oggi comunque sono molto di tendenza e sono anche molto richiesti per il quanto riguarda il trucco permanente oltre ad eseguire i classici trattamenti base quindi di sofracciglia, occhi e labbra eseguiamo anche trattamenti come areole mammari, vitiligini, cicatrici che comunque aiutano anche la donna a ritrovarsi e diciamo a curare quella parte che comunque hanno avuto insomma magari dei problemi importanti senti ma cosa significa trucco permanente? è qualcosa che rimane a vita? no? no, allora trucco permanente è in realtà un vero e proprio tatuaggio a livello tecnico però che si utilizzano dei pigmenti che tendono a scomparire nel tempo di conseguenza comunque avrà un effetto, un risultato sicuramente duraturo ma che col tempo tende a svanire perfetto, tende a sbiadirsi a sbiadirsi, sì sì quanto può durare? perché poi il trucco permanente è quello che ti permette di svegliarti la mattina è già truccata? sì, è già truccata allora in realtà questo va a seconda molto della pelle della cliente però comunque all'incirca diciamo che il trattamento sta bene intorno agli 8 mesi, 12 mesi massimo ma io mi chiedo da maschietto allora in quegli 8 mesi se una ragazza, un giorno una persona, una donna si sveglia e dice però io oggi vorrei truccarmi in un altro modo non può farlo? beh con il trucco si può fare tutto quindi comunque si può soltissimamente ritruccare sopra però in realtà quello che ormai è stato fatto è stato fatto quindi il statuaggio di Marrattale però è un mercato che sta crescendo? sì è un mercato che cresce tantissimo la richiesta è alta, è alta anche la richiesta dei corsi il fatto sta che noi offriamo anche corsi per tutto il settore quindi comunque oggi investire in trucco permanente o anche station cilia sicuramente è un'ottima scelta per quanto riguarda il marketing e il mercato generale molto bene, senti tu sei la titolare di un centro estetico giusto? sì, è Michelle Bottega il centro estetico che si trova in via dell'arte 39 zona EUR e sì sono io proprio la titolare allora all'interno di questo centro estetico noi ci siamo concentrati sul trucco permanente però prima già avevi accennato qualcosa, fate tanto altro sì noi siamo comunque un centro estetico a 360 gradi quindi offriamo tutti i tipi di servizi, quindi estetica base, trattamenti più specializzati viso-corpo e come prima detto gli altri servizi elencati, quindi trucco permanente e station cilia ok, com'è nata questa passione per l'estetica? cioè prima cosa facevi? sempre, eri già decisa a voler aprire un centro estetico? no, in realtà io fin da bambina sognavo di diventare un avvocato e mi sono, stavo per laurearmi in giurisprudenza quando poi invece ho deciso di totalmente cambiare il mio percorso, la mia vita perché comunque ero affascinata dal mondo dell'estetica quindi hai frequentato dei corsi? sì sì sì, ho frequentato corsi anche perché per comunque operare devi avere dei corsi abilitati dalla regione certo, perché per fare trucco permanente? hai bisogno di un corso abilitato dalla regione Lazio quindi comunque ho dovuto fare dei corsi e poi sicuramente ho integrato con altri corsi privati che comunque ti abilitano e ti aggiornano ancora di più molto bene, per chi ci sta ascoltando, soprattutto le femminucce, ma non solo? no, anche adesso gli uomini sì, per esempio per la trigopigmentazione, che è il tatuaggio del cuoio capelluto gli uomini ora si stanno molto interessando allora per tutti quelli che ci stanno ascoltando, adesso come poterti contattare? allora mi potete trovare sul mio sito web che è www.michellebautet.it o sulla mia pagina facebook che è sempre Michelle Bautet molto bene, tu ti trovi, abbiamo già detto a Roma, zona EUR, Viale dell'Arte Viale dell'Arte 3943 molto bene, allora centro estetico Michelle Bautet, anche su facebook tu esegui ancora o c'hai uno staff, cioè esegui ancora il trucco permanente o hai uno staff che ti aiuta? sì, il trucco permanente è molto delicato, comunque tendo ancora ad eseguirlo io personalmente però per tutto il resto c'è il mio staff che mi segue che vogliamo salutare o no, ci stanno antipatici ora staranno lavorando però si salutiamole tutte quante molto bene, allora grazie a Michela Agliocchi, grazie del tuo contributo qui a Radio Radio By Night ciao a tutti quanti, grazie mille ciao a tutti